Cominciamo subito dalla liete. Momento molto dinamico, insolito per voi. L'attenzione rivolta all'ascolto interiore. Eccellenti intuizioni evitano sprechi e perdite di denaro. Toro, vi consolate facilmente con i conti che tornano finalmente, rimpinguando il gruzzolo e sognando il grande amore. Fareste meglio a mollare gli ormeggi invece di pretendere certezze che il partner non può darvi. Gemelli, giornata produttiva. Obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio le idee. Troppe varianti vi confondono. La fase non sarà esaltante, ma avete delle buone carte da giocare. Cancro, è sufficiente guardarvi dentro, ritrovare la guida interiore per recuperare serenità e saggezza. Le circostanze vi remano contro? Avete sufficiente lucidità per non farvene un dramma e non gettare la spugna. Leone, il terreno è minato da probabili nervosismi e malumori. Cambiate atteggiamento con i colleghi, mettendo da parte presunzione e orgoglio. Confusi e disorientati? Specie se siete ormai a un passo dall'altare, un po' di panico è naturale. Vergine, potreste ricevere notizie in merito a una domanda di lavoro, oppure avere una buona nuova che attendevate da tempo, come un aumento o una promozione. Bilancia, gli impegni si accavallano, ma oggi tutto scorre in armonia. Chance lavorative fortunate in merito a un progetto che permette degli ottimi risultati. sfoderate la grinta, se avete delle ambizioni da soddisfare. Scorpione, la corsa professionale già vi vede in pole position. Buona giornata per approfondire gli studi e gli interessi spirituali. Avete molta carne al fuoco, tante opportunità da vagliare. Non pensateci troppo, il tempo stringe. Sagittario, la famiglia è unita e pronta per dedicarsi a un progetto consistente. Fate in modo che la cura del particolare non vi precluda la visione dell'insieme. Capricorno, intuizione e logica vanno di pari passo. Scoprite ragioni finora incomprensibili, chiarite i dubbi e trovate soluzioni provvidenziali ai problemi. Siete nella condizione ideale per affrontare un esame. Acquario, al lavoro fate attenzione, non è il momento di alzare la voce. L'amore è stimolante anche nelle unioni di vecchia data. Incontri intriganti invece per i single. Progettualità intensa, ma per realizzare quello che avete in mente occorre tempo. Pesci, la serenità porta il sole anche negli anfratti nascosti dell'animo. Vivete questo giorno a cuor leggero. Avete la possibilità di riuscire con poco sforzo.